In un mare di offerte scegli il campione della convenienza Valido Buscom, l'azienda gas del tuo territorio Vicino, vero, vantaggioso Con il presidente della regione, Catiuscia Marini e il maestro Ferrara Un bilancio di questa 56esima edizione? Il bilancio lo facciamo fare al maestro ma credo un successo positivo Sia dei diversi spettacoli, di tutto il cartellone Ma anche in modo particolare delle presenze, della qualità delle presenze E ho sentito che sono soddisfatti anche gli spoletini E quindi mi sembra un segno positivo di questa edizione del festival Nonostante tanti impegni, lei è stata presente qui a Spoleto Qual è lo spettacolo che le è piaciuto di più? Io sono venuta alla serata inaugurale, che è stato un bellissimo spettacolo E credo questa sera Wagner e Verdi ne abbiamo bisogno Sia di Wagner per la forza, sia di Verdi per la passione Maestro Ferrara, abbiamo letto i dati ieri dalla conferenza Un successo in termini di qualità, di riscontro anche del pubblico? Sì, sì, assolutamente Cresciamo in controtendenza con tutto il resto dell'Italia Che è penalizzata da una crisi profonda Questa è un'isola felice e andiamo avanti bene Possiamo anticipare qualcosa per la 57esima? Assolutamente no Produrrà ancora il festival nuove opere per l'anno prossimo? Non lo so Blindatissimo Il sindaco di Spoleto, Daniele Benedetti, quest'anno alla presidenza della fondazione Un'edizione, questa 56esima, all'insegna del successo? Direi proprio di sì dal punto di vista dei numeri, dal punto di vista delle presenze, dal punto di vista degli sponsor Si è seminato per 4 anni, 5 anni e quest'anno si raccoglie i frutti È un lavoro lungo che abbiamo fatto convinti insieme al Maestro Ferrara, insieme a tutti gli sponsor Ne traiamo i benefici quest'anno con i numeri che ci danno ragione Io spero che anche tutta la città abbia respirato un'aria nuova di festival Per l'anno prossimo possiamo attenderci qualche anticipazione? Io ho fatto 5 anni di festival, il prossimo anno ci sono le elezioni Spetta Ferrara che invece sicuramente sarà direttore artistico del festival Buono spettacolo Piazza del Duomo, il presidente della fondazione Cassa di Spoleto Un impegno ancora anche quest'anno importante in favore del festival? Un impegno che c'è stato, che c'è e che sicuramente continuerà Perché oramai anche quest'anno il festival ha dimostrato di essere un importante palcoscenico Sul quale si incontrano due mondi E Spoleto ha dimostrato di essere una vera capitale dell'arte e della cultura Per la prossima edizione? Per la prossima edizione noi siamo vicini al Maestro Ferrara Al quale facciamo i nostri complimenti e auguri Per andare verso un'edizione ancora migliore L'onorevole Giampiero Bocci, sottosegretario del Ministero degli Interni Che oggi rappresenta il governo, un bilancio su questo festival? A me sembra positivo, ricordavo ieri sera con degli amici Qualche anno fa, quando allora convincemo il governo a rimettere mano al festival A rilanciarlo, notevole risorse furono messe Una direzione come quella di Ferrara Che voltò pagina Anni difficili Ma credo anche che possiamo dire oggi Che c'è una prospettiva per Una delle manifestazioni più importanti Non in Umbria, ma in Italia Ieri ricordavo Non posso immaginare un Umbria senza il festival di un mondo di Spoleto A me sembra che il bilancio di questa edizione è un bilancio sicuramente positivo Qual è l'impegno del governo per la prossima edizione? Ma intanto mantenere finanziamenti che ci sono Che sono cospicui Non ci sono manifestazioni Che hanno la stessa attenzione del festival di un mondo di Spoleto Ma credo però che questo non basta Ma occorre inserire nel programma del governo E anche in quello delle istituzioni locali Che non possono restare fuori da eventi come questo Inserire una strategia nazionale del paese Attraverso questi grandi eventi passa anche l'immagine dell'Italia E si può costruire un'immagine Si possono garantire degli eventi Naturalmente con le risorse che occorrono In questi casi Nonostante gli impegni lei è stato presente al festival Qual è lo spettacolo che le è piaciuto di più? Guarda io ho visto alcuni balletti Che rappresentano lo spettacolo Che negli anni ho seguito di più Di buon livello Qualcuno meglio, qualcuno meno Sicuramente il primo giorno di inaugurazione del festival Quello spettacolo De piano upstair con Alessandra Esattamente, ha rappresentato Ma adesso aspettiamo il concerto finale Perché il festival ci consegna sempre un gran concerto finale Senta la provincia Vinicio Guasticchi Un bilancio su questo festival che va visto vicini alla fondazione? Beh, sicuramente il festival di De Mondi Ogni anno cresce Questo è un dato oggettivo E certamente vedere una serie di spettacoli così importanti Così di valore Una regia così saggia e importante come quella di Ferrara Ci fa sperare anche per il futuro In una continua evoluzione del festival Che deve essere e deve rimanere Un evento fortemente caratterizzante del nostro territorio Lo sta diventando a livello nazionale e internazionale E questo grazie a questa nuova rinascita Noi come istituzione cercheremo in tutti i modi di stare vicino Perché è una bellissima presentazione della nostra regione